In collaborazione con Glamvision e Caffacli. La pandemia ha stravolto il tessuto economico trentino. In 365 giorni sono 82 i negozi spariti. Lo spumante Perle Nero è campione del mondo dei Blanc de Blanc e tra i 100 migliori vini a livello internazionale. Doppio prestigioso riconoscimento per le cantine Ferrari. Devi aggiornare il tuo ICEF e richiedere le agevolazioni collegate? Assegno unico provinciale, assistenza odontoiatrica, alloggi ITEA, tariffe scontate su mensa e trasporto scolastico sono solo alcune delle misure previste. Per il tuo ICEF, vieni al Caffacli. Il servizio è gratuito. Prenota il tuo appuntamento. Telefona al numero 0461 277 277 o scrivi a caffo-acli-trentine.it Caffacli. Dove tutto è più semplice.